mamma mia che partita mamma mia che partita Udinese e Milan 2 a 3 Milan ecco da vincere all'ultimo secondo con gol di Okafor che roba che roba mamma mia ragazzi partitone stasera ti rimporta 6 a 6 e beh direi che c'è sta i cartellini in amarea non visti aspetta quanti hanno 6 a 1 7 in tutto mamma mia belle partite comunque Samaric prima Lof Tucic in vantaggio al Milan poi Samaric ottimo giocatore questo secondo me Tauwen 2 a 1 poi Jovic che tutti dicono che era scarso intanto però segna e Okafora al 93 se la porta a casa al Milan anche se ha rischiato e non poco secondo me Udinese non ha fatto una brutta partita anzi però il Milan la porta a casa come spesso accade negli ultimi minuti e vanno a classifica vedremo un attimo terzi con 45 punti vabbè c'è una spaccatura incredibile tra il terzo e il quarto posto dei 9 punti anzi dei 11 punti 44 e 45 quindi 11 punti di distanza credo che oramai le prime tre siano belle cassodate secondo me la lotta rimane tra la quarta la quinta la sesta fino al Napoli forse forse anche il Torino mettiamoci anche il Torino dopo con 28 punti e quindi niente vince al Milan buono per le varie schedine che c'è un atto tra l'altro me ne manca una che c'è un tris un bel tris me ne manca il 2 della Juve speravo bene che vincessi e quindi niente domani chi c'è? allora un attimo partite domani chi gioca? allora vedremo un attimo e dai cazzo allora cambiamo data 21 Serie A Flusione Cagliari mi piace sia l'X che il gol secondo me ci possono stare entrambe Polimonza anche tu qui secondo me ci potrebbe stare anche se il Monza ovviamente è molto più forte proviene da una brutta sconfitta quindi se vorranno di fare secondo me ci potrebbe stare anche il 2 sarei in Italia Genoa io dico 1X secondo me e c'è Juve dico 2 magari potrebbe anche più al gol la Juve secondo me 1-2 1-3 ci potrebbe stare e qui queste non le partite domani vediamo un po' e quindi niente appuntamento alla prossima e sempre 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 Forza Roma Forza Roma